buonasera e grazie di essere qui con noi farò tre domande velocissime la prima è quali aspetti del suo lavoro le piacciono maggior maggiormente credo che la cosa che mi piace di più del mio lavoro sia il fatto che mi posso completamente isolare dal mondo essere utile naturalmente agli utenti nel momento in cui chiedono assistenza ma soprattutto posso chiudermi nella mia isola mentale e sognare sognare tutto il giorno qual è il suo sogno nel cassetto ne ho molti ne ho molti in realtà uno l'ho realizzato che era quello di avere una bambina è una bambina dolcissima che adora leggere insieme a me e ne ho un altro ma purtroppo in questo momento non ne posso parlare perché si tratta di una cosa veramente molto personale a cosa non sa dire di no? non so proprio dire di no alla mia bambina quando dopo aver letto una storia mi chiede di rappresentarla insieme sa lei è proprio come me adora i libri adora le storie si immerge in questi mondi fantastici e poi vuole fare anche proprio delle piccole rappresentazioni io quando mi guarda con i suoi occhioni grandi e neri non riesco proprio a dire di no la ringrazio è stata davvero gentilissima grazie a voi